Non dovessero riuscire a eleggere il nuovo presidente greco, tu fossi greco chi voteresti? Bellissima domanda perché probabilmente adesso vi daranno del nazista o qualcosa del genere e probabilmente voterei alba dorata. Alba dorata? Sì, datemi pure del nazista, non so cosa dire, però io purtroppo sarei costretto a votare per mia natura è pur tenuto presente che anche in questo caso la Grecia non è l'Italia mentre l'uscita dall'euro per l'Italia sarebbe benefica mentre invece sarebbe molto più problematica per la Grecia che non è casi gran prodotti da esportare o un'industria da rimettere in piedi. Però io non ce la faccio veramente per animo a essere a guinzaglio. Una vita passata da aspettare i soldi degli altri non sono voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.